Giuseppina Ferretti Giuseppina Ferretti è lei? è lei! Signora è lei? è lei? Arriecola Arriecola Scusi? Oh! Scusi Scusi Mi lancio con tutta favolosa solo per voi Allora, io le faccio pochissime domande perché ormai la mia curiosità in coro Poi quando canta poi io l'effetto fumo tutto favoloso, va bene? Senta, velocemente Sì, sì Lei adesso che è ritornata quindi con suo marito come ha finita? Benissimo Ah, quindi ha confie bene? Sì Ah, quindi avete fatto pace? Beh, pezzò, lignate a fietre No, 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 comunque siamo sempre da amore d'accordo Ah, da amore d'accordo, perfetto Ci vaiamo bene Sì, e praticamente volevo dirmi qualche cosa che dimmi qualche cosa abbiamo fetta No, abbiamo un po' di fretta volevo chiederle soltanto questo come è andata, se si è pacificata Sì, abbiamo fatto un viaggetto No, le corna ci sono sempre però me le tengo belle qua Sono... Eh beh, infatti è la capiglia tua Per quanto riguarda il suo viaggio di nozze solo questo Ah, solo questo che poi cantiamo che c'è dobbiamo essere brevi e ci coincide Allora, praticamente la prima notte di matrimonio io praticamente mi sono tutta favolosa tutta propria mi sono presentata da mio marito soltanto con mutandine reggipetto e due gocce di sciane numero cinzia a uso marino e marrone mi sono presentata da mio marito e lo trovo tutto stendendo che hanno nulla ma bambino e la mia amica mi sono presentata da me Giuseppina ma chi ti metti il reggipetto su pettonna è? ma quando tutte le ha ovviamente le tue nuove ci stesse so puoi adesso invece ci regalerà una canzone Sì, però non voglio essere sola mi voglio creare una scenografia allora chiamo le mie ballerine Ah pure pure Un applauso, siamo con la mia amica, la lascio tutta la sola allora, la canzone che vi canto è una canzone autobiografica, tant'è che io scrivo d'amore ma scrivo anche di mal di pancia. Questa canzone infatti l'ho scritta nel momento in cui stavamo rete già in grado da Moro, di quella propria Asquara House, come diciamo in televisione, ed è una cosa che si è ripetuta prima a novembre, poi a dicembre, a settembre, a ottobre e ci ha scritto questa canzone. A tocca Bustina! Sui lavori! Tutti! Tutti! Oh, andato da totore io ho, aspettato ore, ore non so, se il resto pure io me ne andrò. Pigliavo il mini Evo, bevuto più che tassi io, iniettato più vetassi l'osso, difficilmente digerirò, ritorno dato al cuore. A novembre, a dicembre, a settembre, ottobre, lo sconcetto va salendo lentamente, mi finissi di gridare tra la gente, ho bisogno di erudare. A novembre, a dicembre, a settembre, ottobre, a scettone con l'hotel e mille foglie, il mio stomaco non sembra così forte, come io credevo un anno fa. A novembre Oh, ha chiamato in capo il pulmanio, ho sparato un po' di ariaio, ho squiziato mezzo mondo, lo so, mi zama la fiura. A novembre, a dicembre, a settembre, ottobre, lo sconcetto va salendo lentamente, mi finissi di gridare tra la gente, ho bisogno di erudare. A novembre, a dicembre, a settembre, ottobre, a scettone con l'hotel e mille foglie, il mio stomaco non sembra così forte, come io credevo un anno fa, novembre. E il conciolore non diceva niente, cercava in vano di coprire, quel puzzo sciano amaro che era propria di morire. A novembre, a dicembre, a settembre, ottobre, lo sconcetto va salendo lentamente, mi finissi di gridare tra la gente, ho bisogno di erudare. A novembre, a dicembre, a settembre, a settembre, ottobre, a scettone con l'hotel e mille foglie, il mio stomaco non sembra così forte, come io credevo un anno fa, novembre. Giuseppina Ferretti, convinti sempre! E le ragazze, Cindy, e Simona! Simona, sono state un amore! Brava, brava! Potete rimanere così vestite, anche perché si usa anche a Salvemo che si cambia d'abito. Scusami, stavo... Allora, giuseppe Giambrone! Giuseppe Giambrone! Buonasera! È un trasformista, un cantante, un attore teatrale! Un fu a te! Con la parola giusta, fu a te! Allora, grazie di avermi invitato a questa serata, ci tenevo tantissimo. Come faccio a non invitare te? Lo sai, sei nel mio cuore, lo sai. E per il mio e tutti voi, pubblico nel mio ovviamente, che mi seguite, io vi aspetto, grazie amore, la mia amica Stefania, è una mia grandissima fan, con 4S, con 4S. Allora, cosa dire, io vi aspetto in estate in tournée, insieme a me Giovanni Nanfa, Antonio Pandolfo, Titti Giambrone e Massimo Melodia, quindi cercate sui giornali le date, oppure su internet, sul mio sito www.giuseppegiambrone.it, oppure chiedetemi un'amicizia su Facebook, perché io la do a tutti! Grazie! Grazie! Grazie Giuseppe, grazie! Grazie, grazie a te! Grazie Giuseppe, anche noi la diamo su Facebook l'amicizia, vero? L'amicizia. Si cercano la diamo? io non vorrei che scendo sul palco non si scadano è un po' più amicizia è fatta grazie ciao amici si sono distrutta a che minuti sei? sette e vento a che ora? ah perchè dice a staccare non la taglio non la taglio e voilà qualcuno che mi svegli dire è diretta io un caro amico ritrovato capicci ora pu staccare mi sono fatto questo e basta